Oggi consigli pratici di hotel marketing in vista del bonus vacanza. Ciao a tutti, sono Alessia, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nel mio canale di comunicazione e marketing dove ho sempre un'attenzione in più per le strutture ricettive. Oggi vi voglio dare dei consigli pratici su come affrontare questa stagione estiva 2020 anche in vista dell'arrivo del bonus vacanze. Ma prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al canale in modo tale da non perdere mai i miei contenuti e poi alla fine del video mi raccomando voglio sapere cosa ne pensate nella sezione commenti perché magari avere un dialogo costruttivo può aiutarci a darci idee e magari migliorare la nostra situazione e la nostra strategia. Ma vediamo subito di che cosa si tratta questo bonus vacanze. Vi ho già fatto un video in merito quindi sarò super veloce. I vostri clienti potranno soffrire di questo bonus se disporranno di determinati requisiti fino a un massimo di 500 euro quindi magari una famiglia di tre persone viene nella vostra struttura soggiorno da voi e avrà se ha superato o ha raggiunto la soglia avrà in fattura uno sconto dell'80% immediato e poi il restante lo recupereranno tramite il 7,30. Ma in realtà il termine sconto non è giusto perché in realtà voi non anticiperete soldi da nessuna parte ma si tratterà di crediti di imposta che potete utilizzare subito. Ora io non vi voglio parlare di come funzionerà o i problemi del bonus vacanza ma vi voglio parlare di un aspetto fondamentale. Per usufruire di questo bonus le persone potranno pronotare o direttamente fantastico o tramite agenzie e tour operator o da niente Airbnb nulla Booking non esiste quindi molti di voi avranno un problema un problema gigantesco prima di tutto non si può dare per scontato che tutti abbiano accordi con agenzie e tour operator c'è chi ha deciso no 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 io non faccio accordi con quelli eh però ho fatto accordi con gli OTA ma adesso gli OTA non si possono utilizzare quindi che cosa fare? vediamo un attimino allora io vi ho già fatto un video dedicato alla comunicazione quindi come fare hotel marketing nel 2020 in vista della riapertura post coronavirus dove vi davo proprio dei consigli da adottare per la comunicazione oggi quello che voglio fare è darvi dei consigli pratici quindi il primo consiglio più importante che secondo me io vi posso dare è quello di fare un investimento sul proprio sito web ora magari questo non è l'anno per investire me ne rendo conto ma un sito web è un investimento davvero a lungo termine voi non lo fate per il covid voi lo fate per voi voi dovete capire sì booking.com vi può dare la visibilità che magari desiderate tutti quei soldi voi li mettete comunque in commissioni vi dà l'illusione di guadagnare poi arriva la stangata a fine mese e dal giorno dopo voi ve ne siete scordati di quella fattura da 5.000 euro di soldi che dovete a booking.com e poi toglieteci tutti gli altri e vedete effettivamente quanto ci avete guadagnato ora un sito è importantissimo perché vi permette di adottare anche delle strategie di marketing di upsell e di crosssell dipende tutto come lo fate ovviamente non è che oggi fate il sito domani ve lo scordate o dovete creare una collaborazione magari con un webmaster che vi segua regolarmente dovete cambiare spesso la sezione delle offerte non potete sperare che fate un copy e quello sia per sempre perché in realtà non è così ma dovete testare mano a mano un sito vi permetterà di adottare delle strategie di marketing anche per aumentare le prenotazioni dirette perché comunque i prezzi che fate all'agenzia e i prezzi che fate al tour operator non sono ovviamente distensi che fate direttamente ai vostri clienti ci sarà un minimo guadagno i pagamenti arrivano quando arrivano quindi è anche importante poter incassare subito e quali possono essere le scelte che potete fare io un consiglio che darei è quello di essere più flessibili con le politiche di cancellazione in modo tale da invogliare anche le persone a prenotare perché adesso viviamo in un periodo di incertezza e quindi magari le persone dicono ok e se scoppio un caso in quell'albergo e se c'è un focolaio in quella zona che cosa faccio poi perdo tutti i soldi e quindi magari ci pensano un pochino magari anche invogliati sapete dal bonus vacanza decino di spendere quella 100 euro in più che magari andavano a recuperare con la non rimborsabile ma proprio in vista di questo bonus vacanza sì flessibili con le politiche di cancellazione ma ovviamente perché non fare un minimum stay nessuno ve lo vieta nessuno vi vieta di fare un soggiorno da sette notti un soggiorno che fate da sabato a sabato così come fanno tante altre strutture ovvio che se poi le persone vengono a voi qualcosa da fare la devono avere se voi non avete servizi da poter offrire oltre alla camera dovete trovare una soluzione prima di tutto iniziate a collaborare con chi è attorno una cosa che mai capisco è questa chiusura mentale tutti quanti abbiamo bisogno di lavorare l'economia gira meglio se si è insieme infatti proprio per questo vi ho fatto un tempo fa una video intervista dove intervistavo Vianna Pardo che è il presidente della rete di imprese metamorfosi dove abbiamo parlato proprio di questo il fatto di essere uniti lavorare insieme si può offrire molto di più ovviamente ora immaginate non avete un ristorante fate l'accordo con i ristoranti nella vostra zona non avete una spa fate l'accordo con un cento estetico che magari possono offrire un massaggio fate accordi con chi vi sta intorno cercate di ampliare quella che è la vostra offerta ora dirò una cosa che forse vi farà storcere il naso ma investite nel vostro personale nel senso non fate economia sul personale perché possono fare la differenza tra una stagione positiva e una negativa ad esempio a me una volta è capitato che si è deciso di risparmiare sul portiere di notte questo portiere di notte non conosceva le lingue non conosceva questo lavoro e i problemi ci sono stati però nel momento in cui siamo arrivati in un'altra stagione e quando hai un target che è principalmente che viene principalmente da una determinata zona questa persona non è in grado di parlare con un cliente incazzato che a luna di notte sta sbraitando per un qualsivoglia motivo lì hai un problema e poi succede succede di nuovo succede di nuovo e poi ti ritrovi in piena stagione che stai impazzendo per cercare il personale qualificato che si sono accaparati già a tutti gli altri hotel oppure questo personale lo devi pagare molto di più di quello che pensavi molto di più no di quello che pensavi di quello che è giusto pagare davvero uno degli errori più grandi penso che possa fare un hotel è tra questi ovvero risparmiare sul personale e quindi poi ti trovi delle persone che non sono in grado nemmeno di vendere davanti a un cliente e poi ovviamente perdi tantissimo perché magari hai fatto un accordo con il ristorante e non sono in grado di venderti oppure non sono in grado nemmeno di venderti nei passi del tuo ristorante e quindi tu vai in perdita da questo punto di vista un'altra cosa un consiglio pratico che voglio dare è di non ridurre i budget della colazione perché adesso c'è il problema della questione degli assemblamenti il buffet e io già mi vedo molte persone che ho conosciuto che andranno a tagliare il budget del buffet perché se già prima la colazione era terribile adesso pensate ancora di più di risparmiare l'italiano quando va in hotel ci tiene alla colazione bisogna farne la colonna portante della propria struttura ovviamente a meno che non abbiate qualcosa altro da mettere sul piedistallo non desinate sulla colazione è molto importante adesso che comunque non ci saranno gli assemblamenti magari possiamo trovare delle idee per evitare il più possibile gli sprechi cosa che ci sono con i buffet ma puntate alla qualità mi raccomando se dovete fare dei tagli non fateli sulla colazione poi non potevo non darvi questo consiglio ovviamente io sono di parte ma il must have è investire nella comunicazione mi raccomando fatelo adottate le strategie di marketing comunicate queste strategie non dimenticate questo aspetto perché potrebbe essere la svolta quello che vi farà almeno sopravvivere non dico guadagnare quest'anno ma almeno che vi farà sopravvivere quindi mi raccomando sedetevi al tavolino analizzate la vostra struttura analizzate i vostri clienti analizzate il vostro budget e vedete quello che potete fare non entrate in panico perché quello che adesso sto vedendo è dobbiamo rivolgerci a tutti dobbiamo fare questo dobbiamo fare questo dobbiamo fare questo no, non serve a niente state perdendo solamente tempo quello che bisogna fare è sedersi trovare il proprio target comunicare con quel target ve lo dico in continuazione forse sto diventando anche noiosa da questo punto di vista ma ve lo devo dire comunicate con il vostro target e vedete che avrete i risultati è garantito perché è così che funziona il marketing non parlate più alla massa non esiste perché tanto quando andate a comunicare gettate una parola un'offerta nella massa questa si perde invece nel momento in cui voi vi rivolgete a una nicchia specifica voi non perdete tutti gli altri ma sarete molto più efficaci con le vostre strategie di comunicazione ovviamente se poi volete una consulenza per la vostra struttura ricettiva o avete bisogno di formare il vostro personale iscrivetevi pure a infochioccia alessiaboccanfuso.com come sempre vi aspetto nel prossimo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto grazie a tutti besos